Salve a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video, il vostro Frank 04 Grand, ragazzi post partita, Juventus, Bologna ragazzi, la live reaction, la caricherò un po' dopo perché vi devo tagliare i pezzi. Con Chiara, una reversione aspettata perché faccio il video di partite importanti e non di Juventus Bologna, invece ve l'ho fatta, è uscita la challenge, guardatelo, comunque ragazzi post partita, Juventus Bologna partita diciamo vinta dalla Juventus, metta da Mendele, perché la Bologna non ha fatto praticamente nulla a parte quel calcio di rigore netto di fallo su Lugani, netto anche il giallo, poi al secondo tempo 8 gol di Di Grazio, 8 gol di Di Maio, poi abbiamo fatto anche il gol di Ghadira, quindi il gol di Ghadira, la partita si è messa decisamente meglio per noi, grazie a Di Bala, da lì poi siamo, abbiamo saputo mantenere il risultato, anche se comunque prima del 2 a 1, il problema è un'occasione, un palo ragazzi, che ancora trema quel palo, la sua madre mia mamma che ride ancora, sono sopporto da ridere visto che l'antico ventina comunque ragazzi veramente, un palo che in quel momento si mutibili, molto segnato, invece no, grazie a Dio, 2 a 1 sempre per noi, 1 a 1 anzi, grazie a Di Maio che si è fatto l'autogol, e poi abbiamo fatto il 2 a 1, grazie a Mirante che è andato un po' a farfalle, che di attacca, gol, 2 a 1, 3 a 1 di Bala, e però sapevo gestire poi da lì la partita, anche se finché avevo rischiato un po' di prendere gol, comunque vedi a Juve i pezzi là, cioè non me li metto, cioè erano occasioni per vedere così, metti pezzi fondamentali, quindi ragazzi, partite vinto dalla Juve, si fa più sette, insomma, in Napoli perdono, abbiamo già vinto lo scudetto, con Torino, quindi purtroppo dovremmo motivare Torino. E vabbè, quindi io vi invito, mi raccomando, se vi dovete piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete, dovete anche su Instagram, mi chiamo Pantino da Napoli, iscrivetevi al canale per andare via a Chiara, mi raccomando, spaccate il video di like, perché tra poco vi escerà poi la live reaction della carico qua su YouTube. Ragazzi, 3-1 contro il Bologna, abbiamo fatto pure di perdere, e quindi abbiamo vinto, anche direi abbastanza esattamente, ecco niente, ciao ragazzi.